I lavoratori precari di Ribera saranno stabilizzati. Era stato questo l'annuncio in pompa magna di Carmelo Pace alla fine del 2018. Siamo però adesso alla fine del 2019 e per come si sono messe le cose sembra difficile che entro il 31 dicembre, ossia tra meno di due mesi, si riesca nell'intento durissima l'opposizione consigliare che attacca il sindaco. Lui quando annuncia la stabilizzazione non sapeva che dietro la stabilizzazione ci sono diversi adempimenti sia finanziari che riguardo ad atti amministrativi che si perde molto tempo per poterli fare, tra cui i bilanci consolidati che si è scoperto a luglio che il comune di Ribera non aveva fatto mai dei bilanci consolidati non erano stati fatti addirittura i bilanci del 2016-2017 e ora superando settembre anche il 2018. Su questo dei precari quindi si consuma l'ulteriore incapacità amministrativa del sindaco. Lo dobbiamo dire a chiare lettere perché siamo già a novembre. Molti atti che il sindaco a metà ottobre ha deliberato in giunta e li ha trasmessi all'organo dei revisori per i pareri ancora ad oggi quindi non escono dall'ufficio dei revisori per il ritardo notevole e l'inefficienza dell'amministrazione. Si tenta adesso di correre ripari? Si può correre ripari secondo il suo giudizio rispetto a questa tematica che riguarda comunque al di là delle schermaglie politiche 90 persone? Difficile ma non impossibile. Tutto quello che manca è la trasparenza e un dialogo serio sia con le parti sociali sia anche con la politica perché noi consiglieri comunali non siamo la barca di salvataggio solo quando la nave affonde e quindi si cerca disperatamente con argomenti anche extra politici un eventuale appoggio. Ad oggi c'è questo stato di agitazione che i precari chiedono un consiglio comunale straordinario e noi abbiamo su questo risposto dando fiducia massima e supporto perché ancora non si riesce a capire la problematica della stabilizzazione perché non viene avviata e alla fine dalle riunioni che noi abbiamo fatto anche con gli organi riferiti anche ai revisori lui è stato capace di montare la cosiddetta tragedia in quanto lo possiamo definire un professore universitario sulle tragedie buttando le responsabilità oggi ai revisori. Revisori che giustamente gli atti arrivano a metà ottobre devono avere i tempi per esaminare tutto ma ancora di più io mi informo che il bilancio consolidato addirittura il 2018 ancora non è stato redatto. Rapporti tesi quelli tra maggioranza e opposizione che dall'avvertenza dei precari e lavori consigliari in programma la prossima settimana si rivelano di difficilissima ricomposizione. Quello che noi vogliamo condannare è l'inefficienza e la superficialità che stanno mandando a fondo questo comune di Ribera perché sono tanti, sono troppi i problemi. Alcuni saranno analizzati anche nel prossimo Consiglio Comunale di giorno 6 in prima convocazione o 7 novembre dove emerge questa spaventosa presenza dei debiti fuori bilancio che hanno raggiunto un livello patologico assolutamente non degno e non confacente a quello che è la fisiologia dei rapporti all'interno della vita comunale. Poi vediamo anche un ordine del giorno totalmente stravolto rispetto a quando deliberato in conferenza dei capigruppo e si vanifica anche il lavoro della conferenza dei capigruppo. Vediamo punti presenti che non dovevano essere presenti solo perché il segretario comunale ha preso un formale impegno di trattazione e quindi di relazionare al Consiglio e invece li vediamo catapultati all'interno dell'ODG. C'è qualcosa che non funziona all'interno del comune di Ribera. Grazie a tutti.